. Fabrizio Corona fuori dal carcere a Natale, richiesta rifiutata Fabrizio Corona passerà le feste in carcere, allex re dei paparazzi oggi è stata negata la possibilità di tornare a casa a Natale. Quello di oggi per Fabrizio Corona non è stato un gran giorno. Dopo aver chiesto al tribunale di poter essere rilasciato prima di Natale, riuscendo così a passare le feste a casa, questultimo ha dovuto fare i conti con una dura realtà. . La sua richiesta è stata respinta, lasciando lamaro in bocca a molti, lui stesso compreso. . Diversi volti noti dello spettacolo che stanno esprimendo la propria solidarietà a lui in queste ore, tra cui lamico Gabriele Parpiglia, presente al processo. . Questo però non è servito a calmare gli animi di Fabrizio Corona in aula che, stando a quando riportato dalla Repubblica, ha poi avuto un diverbio acceso contro l'accusa. . Processo a Fabrizio Corona, lo scontro in aula. . Mi lasci uscire di galera, è Natale. Avrebbe chiesto visibilmente agitato Fabrizio al PM, senza però avere un riscontro positivo da parte di questultimo. La discussione tra lui e l'accusa si è poi protratta, fino a raggiungere toni sempre più accesi. . Tante le persone vicine a Corona che speravano nella scarcerazione, compresa la sua fidanzata Silvia Provedi, che adesso però sarà costretta a metabolizzare quest'altra decisione. . . I piani della cantante, fino a pochi giorni fa, erano chiari, se il suo compagno non fosse uscito prima di Natale lei sarebbe stata pronta a passare questi giorni di festa accanto a lui in carcere, negli orari e nei giorni prestabiliti. . Silvia Provedi vicina a Fabrizio Corona, accanto a lui nella buona e nella cattiva sorte. . A Nuovo TV Silvia Provedi aveva raccontato di essere pronta a passare l'ultimo dell'anno in carcere insieme a Fabrizio se quest'ultimo non fosse tornato a casa prima delle feste. . . I progetti fatti dalla cantante delle Donatella, ad oggi, purtroppo sembrano destinati a non cambiare. .